attenzione terrestri i marziani sono giunti per conquistare il vostro tempo libero in simpatia vi diamo quindi il benvenuto nel primo e solo e unico canale youtube di marziani con il fat nel piano stile che ci contraddistingue ma non ci estingue tratteremo il nostro universo di origine ossia quello videoludico restate sintonizzati quindi e non dimenticate di visitare il nostro sito e ricordate veniamo in gioco ps l'immagine che vedete non c'entra nulla con fallout lasciate aperto